Correva l'anno 1948, in un piccolo paese dell'Abruzzo rurale si festeggiava il ritorno alla vita dopo i nefasti eventi della seconda guerra mondiale. Ascoltiamo adesso la registrazione dell'intervista al segretario del Partito Comunista dopo l'intervento chirurgico effettuato dall'ostimato professore Pietro Valdoni dall'ospedale L'Ascidente di Roma. Grazie a me per esprimere la mia riconoscenza al professore Valdoni che mi ha operato. Ma qualcosa? Qualcosa impedì la loro rinascita. Attenzione, parla il generale Tansi dell'esercito italiano. Il sottosegretario del Ministero dell'Agricoltura ha decretato l'indata odierna. Dalle ore 23 entra in vigore la legge marziale. Qualunque cittadino verrà trovato pagare per le strade sarà passato immediatamente per le armi. Al momento stiamo attraversando una crisi come non ne avevamo mai visto. Che Dio abbia pietà delle nostre anime. Che Dio! Che Dio! Che Dio! Che Dio! L'inizio marisas. Che Dio. Grazie a tutti